Stiamo vivendo un tempo difficile però i teatranti sono abituati, hanno nel loro DNA la guerra contro le epidemie, contro le infezioni tutte le volte che nella storia c'è stata un'infezione o un'epidemia, i poteri hanno chiuso i teatri e i teatranti sono rimasti senza lavoro c'è una leggenda secondo la quale durante la peste di Londra 1592 Shakespeare venne in Italia ma non ci sono prove che questo sia successo effettivamente mentre ci sono prove che durante una peste a Milano 1576 prima, molto prima di quella raccontata da Manzoni l'arcivescovo Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano organizzò la processione del Santo Chiodo per pregare contro l'epidemia ebbene in quell'occasione per la prima volta fece sfilare in fondo alla processione anche i comici dell'arte accettò che i comici, i primi professionisti del teatro stessero insieme ai fedeli probabilmente perché se non ci fossero stati loro erano molto popolari a quell'epoca se non ci fossero stati loro difficilmente i milanesi sarebbero usciti dalle case con la peste vedete, l'Italia è la storia dell'Italia è intrisa di teatro tutti i tempi, dalle origini, dal 2500 avanti Cristo fino a oggi, 2500 anni siamo stati sempre caratterizzati dal teatro e ogni stagione, ogni epoca storica ogni poetica teatrale ha prodotto un luogo fisico, un teatro un teatro dove far spettacolo dove far incontrare le persone perché il teatro si fa in due bisogna essere spettatori e attori ci deve essere almeno un attore e uno spettatore se non ci sono se manca uno di questi due protagonisti il rito teatrale non c'è proprio perché il rito teatrale consiste nell'emozione che si instaura fra questi due soggetti e naturalmente nel corso del tempo sono stati costruiti dei luoghi che si riteneva fossero i migliori possibili per consentire questo incontro per consentire questa emozione ecco, l'Italia è l'unico luogo del mondo dove ci sono teatri di tutte le epoche e di tutte le caratteristiche di tutte le particolarità solo i comici dell'arte quelli da quali siamo partiti non hanno costruito teatri ma d'altra parte loro recitavano nelle piazze recitavano su dei carri su dei palcoscenici improvvisati al limite, nelle migliori delle ipotesi dentro i saloni dei palazzi importanti oppure per strada in fondo alle processioni come abbiamo visto nel 1576 l'Italia è piena di teatri prendete i teatri romani tutte le città, dovunque ci sono teatri romani i teatri romani sono un'invenzione ingegneristica, geniale perché sono delle strutture autoportanti c'è la cavea fatta di gradoni di gradoni di pietra sotto la cavea ci sono i negozi perché? ovviamente quando si andava a comprare a farle compere ci si fermava anche a vedere lo spettacolo esattamente come nei centri commerciali di oggi nel teatro greco a Siracusa c'è un magnifico teatro greco il teatro greco è completamente diverso o meglio la struttura è la stessa prendete il teatro di Siracusa 550 a.C. prendete il teatro romano di Ostia il teatro romano di Ostia antica è tra l'altro uno dei più belli uno dei meglio conservati che è di epoca augustea quindi 500 anni dopo il teatro di Siracusa ebbene sembrano uguali c'è la cavea cioè dove va il pubblico c'è l'orchestra cioè un semicerchio dove andava dove c'era il coro e poi c'è la schenè cioè il palcoscenico vero e proprio la differenza sostanziale qual è? è che i teatri greci sono costruiti su un declivio naturale i greci cercavano un luogo dove potesse essere garantita visibilità e acustica naturalmente cioè il dorso di una collina sostanzialmente ecco perché i teatri greci non sono nel centro delle città a differenza dei teatri romani perché i greci andavano a teatro uscivano di casa uscivano dalla città era come dire un impegno morale era un divertimento etico andare a teatro era importante e quindi si partiva la mattina si andava a teatro c'era tutta la giornata di rappresentazione e la sera si tornava in città ho detto acustica e visibilità sono i due elementi fondamentali dei teatri pensate i teatri all'italiana la scala di milano il san carlo di napoli la pergola di firenze il teatro argentina di roma per dire i più famosi il teatro la fenice di venezia ebbene garantivano ottima acustica e ottima visibilità pur consentendo di infilare in uno spazio il più possibile ristretto il maggior numero di persone possibile perché? perché dovevano incassare perché dovevano vendere i biglietti i teatranti perché il teatro vive del biglietto che voi comprate questo è molto importante naturalmente l'invenzione del teatro all'italiana va esattamente in questa direzione cioè una struttura perfettamente costruita ferro di cavallo i palchetti cinque ordini di palchi separati da paratie di legno perché riverberavano il suono il progetto era quello di costruire un luogo dove nel minor spazio possibile ci potessero stare più persone possibili ovviamente ebbene il novecento ha un po' cambiato le carte nel senso che si è cominciato a costruire dei teatri dove l'elemento importante era la fusione fra spettatori e pubblico quindi il palcoscenico era mobile poteva essere al centro dello spazio oppure laterale pensate il teatro di Gropius teatro totale l'ha chiamato un uovo dove il tuorlo è il palcoscenico semovente il teatro astra di Torino ci sono tanti teatri dove il palcoscenico si muove può essere mosso ovviamente ecco la realtà è che tutte le città i paesi i borghi d'Italia hanno un loro teatro perché il teatro era il fulcro dell'identità il fulcro della comunità i cittadini volevano avere il loro teatro perché si identificavano nel teatro ecco quando finalmente usciremo da da questo periodo difficile e torneremo a teatro vi invito vi auguro di tornare a teatro guardatevi intorno guardatevi guardate il soffitto le pareti i palchetti se è un teatro d'Italiana guardatevi intorno vedrete i segni e i sogni di tutte le persone che hanno costruito recitato e assistito a spettacoli lì dentro i sono ecco 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 Grazie a tutti.